Innotec fornisce attrezzature e diagnosi complete per officine, carrozzerie e centri revisione, nonché attrezzature per autolavaggi. Innotec, lo specialista sempre al tuo fianco. Dopo il caldo intenso sulle nostre zone, causato dall'anticiclone del Sahara, c'è un'inversione di tendenza in questo avvio del mese di agosto. Benvenuto il fresco, perché renderà l'aria più sopportabile, ma il fresco per questi due giorni in alcuni momenti sarà unito anche a precipitazioni, quindi allerta meteo. L'avviso della protezione civile sarà valido dalle ore 20 del 4 agosto alle ore 20 del giorno 5, su tutta la Campania. Saranno possibili rovesci e temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione e da una particolare forza. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine e fulmini e previsti anche eventi localmente forti dai quadranti occidentali con raffiche e mare agitato. A questo quadrometeo è associato un rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio. Sono infatti possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, frane e caduta massi. Potranno altressi verificarsi danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti alle fulminazioni, alle grandinate e alle raffiche di vento. Attenzione va prestata anche al verde pubblico per assicurarne una corretta tenuta. Si raccomanda la massima attenzione, anche per quanto riguarda le strutture balneari. E alla stessa maniera, la Regione ricorda ai Comuni la necessaria attivazione dei centri operativi comunali e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.